di nuovo in diretta sul canale Calabria Tennis sui nostri social abbiamo quest'oggi un nuovo webinar dedicato precisamente a delle ricerche tecniche specifiche abbiamo con noi Fabrizio Senatore che saluto e ringrazio per l'intervento e il professor Salvatore Buzzelli che ringraziamo per aver accettato questo incontro formativo e quest'oggi non sarò solo a condurre questa iniziativa che come voi sapete da un certo periodo abbiamo iniziato una sequenza di dedicando appunto a nei vari diciamo nelle varie zone nelle varie situazioni di competenza del tennis anche dei seminari specifici come questo che stiamo per per iniziare allora salvatore intanto Fabrizio Senatore cedo la parola a te per e mi congedo temporaneamente per fare diciamo da regia ok grazie Francesco buonasera a tutti noi ci siamo già conosciuti in altri suoi webinar presentati già da Francesco con Calabria Tennis questa sera mi occuperò un po' di fare il moderatore con il professor Salvatore Buzzelli di cui do diciamo qualche notizia di carattere curricolare quindi il professor Buzzelli è abruzzese di nascita e dopo aver avuto un passato da ingegnere elettronico e quindi anche programmatore di computer si è diplomato all'ISEF e successivamente si è laureato in scienza e tecnica dello sport a Bologna per poi diventare prof di educazione fisica proprio negli istituti della provincia nella sua carriera da sportivo ha fatto parte della nazionale di atletica leggera ed ha gareggiato nelle specialità dell'atletica leggera di Decathlon e salto con l'asta vincendo anche i campionati italiani di Decathlon a squadre nel 1973 a Forlì e tra le sue collaborazioni eh ci sono dei luminari della preparazione fisica come il professor Carmelo Bosco il l'ideatore della famosa pedana a conduttanza e ma ha collaborato anche per per alcuni anni con il professor Kenneth Cooper famoso soprattutto per per il suo test che viene riprodotto ormai eh da tantissimi allenatori e il professor Buzzelli ha progettato e realizzato tantissimi software come il power cardio tennis il senso touch il sigma test il senso buzz arrivando quindi al metodo coordinabolico eh ad oggi il suo sigma test è l'unico test di valutazione funzionale per un tennista e molti allenatori anche di livello mondiale come per esempio Marco Panichi che è l'allenatore preparatore fisico di Novak Djokovic utilizzano il senso buzz eh quindi a questo punto prof eh ci parli un po' di questo nuovo metodo di allenamento che ormai sta spopolando in tantissimi sport soprattutto sia a livello amatoriale che a livello professionistico grazie Fabrizio della presentazione eh buonasera a tutti ehm io mi occupo di preparazione atletica soprattutto nel tennis dal millenovecentosettantacinque ormai ho perso i conti sono quarantacinque anni si vede anche dal colore dei capelli ehm e da quando ho cominciato questa mia attività venendo dall'atletica ho cercato delle soluzioni eh funzionali per il tennis già a partire dagli anni in cui la preparazione atletica era riservata soltanto a qualche corsetta a qualche saltello a alla funicella e cose di questo genere io ho cercato in qualche maniera di rendere le cose molto più funzionali e per arrivare all'ultima delle mie realizzazioni che è appunto il lo strumento senso buzz e il metodo coordinabolico eh che poi vi spiego cosa vuol dire sono parole eh combinate sono neologismi che io ho creato come con tutte le cose che faccio distinguere eh queste cose da eh da tante altre che che ci sono in giro ma queste sono diciamo le prime quindi ehm il metodo coordinabolico che eh Fabrizio citava è un metodo di lavoro che eh parte da un concetto eh fondamentale che è quello che il tennista come tutti eh i praticanti degli sport di situazione hanno una caratteristica in comune che è quella di capire rapidamente che situazione si presenta al ai loro ai loro occhi cioè che situazione sta per avvenire e quindi io mi devo organizzare per risolvere il problema che mi verrà posto e quindi per poter fare questo il primo la prima caratteristica è quella di avere un livello attentivo molto alto l'attenzione è sempre stata considerata una eh capacità importante però è sempre stata allenata molto poco tant'è che quando io ho iniziato a occuparmi di queste cose già negli anni ottanta eh l'origine di questo tipo di lavoro è negli anni 88 1988 ehm in pratica io chiedevo ai giocatori di tennis ma secondo te l'attenzione è importante? La risposta era assolutamente importante e poi la la seconda domanda era e quando lo alleni? L'alleni? Cioè certo che l'alleno e quando? Durante le partite mentre gioco i punti importanti quindi voi capite che c'era un paradosso che praticamente si allenava una qualità che serviva alla prestazione durante la prestazione agonistica e questo nel mondo sport non è una cosa normale le qualità vanno allenate prima e poi vengono messe in funzione durante la prestazione quindi partendo da questo eh nasce questo metodo ehm chiamato coordinabolico perché incide su ehm quattro aspetti fondamentali l'aspetto cognitivo adesso si parla tantissimo di aspetto cognitivo da quando eh vanno di moda o perlomeno questa nuova frontiera dell'attività sportiva che è quella delle neuroscienze l'aspetto cognitivo è diventato preponderante quindi c'è coordinabolico sta per cognitivo condizionale cioè le qualità che servono le qualità motori di base forza velocità resistenza e mobilità articolare coordinative quindi cognitivo condizionale coordinativo e metabolico metabolico inteso come tipo di lavoro e che tipo di lavoro eh un soggetto svolge se ti tipo aerobico anaerobico a lattacido o lattacido quindi l'insieme di queste di iniziali di queste parole ha formato la parola coordinabolico a cui ho dato il nome perché questo ehm tipo di allenamento possa essere eseguito c'è bisogno di creare quei famosi stimoli che attragano l'attenzione e quindi in partenza ho ideato questo strumento chiamato senso boots anche questo un nome combinato che eh si rifà alle qualità senso motorie che sono quelle stimolate e boots eh e la la radice del mio cognome a cui ho voluto eh unire per questo strumento. Questo strumento è nato nel 2006 eh per poter valutare aspetti importantissimi negli sforzi di situazione che sono i tempi di reazione quindi ho costruito questo strumento per poter valutare in un campione molto ampio di popolazione. Io insegnavo a scuola quindi ho avuto tutto il mio liceo a disposizione più tutti i ragazzi della federazione italiana tennis eh della regione Emilia Romagna di cui io rivestivo il ruolo di responsabile della preparazione atletica quindi a tutti i raduni io facevo test con questo mio strumento più tanti ragazzini di scuole elementari eh di quinta elementare per cui ho potuto avere un campione di ambe due i sessi quindi maschi e femmine a partire dai nove dieci anni fino ai diciotto diciannove anni e ho creato una statistica molto importante che mi è servita per valutare ehm e quindi poter assegnare poi le esercitazioni migliori per migliorare alcuni aspetti ehm poi con questo strumento eh che mi appunto mi serviva per valutare i tempi di reazione l'ho portato sul campo da tennis quell'anno nel duemila otto duemila sette duemila otto io allenavo e l'ho allenato per tre anni di seguito eh Tatiana Garbin oltre a Enrico Bursi che è un ragazzo che era duecentocinquanta ATP la Garbin sappiamo che eh quando è venuto da me era ventidue al mondo però aveva anche trent'anni quindi era verso fine carriera e mi ricordo che cominciamo a fare questi lavori con questo strumento e notavo che Tatiana e anche Enrico erano talmente eh con gli occhi sgranati a fissare i segnali che questo strumento emetteva per poter reagire rapidamente capire quello che dovevano fare che eh lavoravano ma non si accorgevano del tempo che passava anzi si divertivano però allo stesso tempo facevano anche una gran fatica e da lì poi le cose si sono eh evolute e quindi si è creato un metodo di lavoro che in qualche maniera poi è stata un'idea di partenza da cui tanti altri poi si sono accodati e hanno cercato di emulare e vuol dire che l'idea era buona. Ok Fabrizio? Sì Salvatore ehm stavi parlando proprio di questo di questo tuo strumento che ormai sta spopolando ehm io ti volevo fare una domanda proprio per quanto riguarda eh la capacità di reazione motoria che è una di quelle capacità coordinative che ci permette di reagire il più rapidamente possibile a degli stimoli di diversa natura come dicevi tu quindi visivi uditivi, tattili eh nei tennisti eh una delle capacità coordinative più importanti eh pensare un po' ai tempi di reazione del tennista che magari risposta deve essere pronta ad un servizio che arriva a più di duecento chilometri orari ehm ci sono molti esercizi per allenare quindi i tempi di reazione eh tra quelli più utilizzati negli ultimi anni eh ho notato ehm che ci sono i pannelli anaglifici che vengono che vengono utilizzati in tanti circoli della penisola ma ascoltando in alcuni video anche il il professor Ron Cagli che è un grandissimo psicologo e optometrista eh in alcuni video spiega dettagliatamente cosa avviene in allenamenti di questo tipo eh quindi io ti volevo chiedere a questo punto sono più efficaci gli allenamenti con eh questi pannelli anaglifici o sono più efficaci eh gli allenamenti con il senso goods? Allora eh i pannelli anaglifici io li ho utilizzati nel millenovecentottantotto proprio con il dottor Ron Cagli perché tu hai detto una cosa non vera e ne hai saltato un'altra hai detto che io ero ingegnere ma in realtà io non sono ingegnere ho studiato ingegneria e poi quando dopo aver fatto l'INSEF ho studiato medicina e quindi nel periodo in cui eh studiavo medicina lavoravo in una clinica oculistica a Bologna e quindi sono venuto a contatto con il dottor Ron Cagli quell'anno mi ricordo allenavo camporese ancora non il camporese grande campione era 150 al mondo e anche Davide Scala che poi è stato 117 al mondo e abbiamo fatto queste pratiche di visual training di sport vision che comprendevano anche questi pannelli ma erano ehm a loro era dedicato un tempo che ti posso dire su dieci ore di lavoro che abbiamo fatto dieci minuti ecco cioè tanto per dirti l'importanza di queste cose ehm poi io da lì non ho più utilizzato so che eh sono ehm sono tornati di moda ogni tanto questa moda ritorna come spiegava il dottor Ron Cagli eh non è la prima volta che ritorna ma sono cose che sono cose che io sinceramente non uso e neanche mi interessa utilizzare ehm cosa posso dire che eh è chiaro che non posso parlare che magari un metodo funziona più di un altro perché sono direttamente interessato e quindi la mia potrebbe sembrare una eh come dire eh un conflitto di interessi io guardo i risultati e i risultati mi dicono che il mio il mio metodo il mio strumento è utilizzato sia da grandissimi campioni tu prima hai citato il il eh il professor Panichi che è il preparatore di di Jogovic ma non solo della Kerber anche di in Italia per esempio Travaglia è un un atleta che si allena così ma nel mondo della scherma vi posso dire anche eh tre campioni che sono conosciutissimi come Elisa Di Francesca, Daniele Garozzo, Alice Volpi, Alice Volpi che sono campioni olimpici e mondiali lavorano con questo metodo oramai da quattro cinque anni quindi io guardo i risultati eh purtroppo non ho avuto chi eh mi ha sponsorizzato eh e quindi le mie cose si sono conosciute un po' alla volta sul fatto di qual è il metodo che funziona meglio o peggio ehm che dà risultati questo lo scopriremo anzi lo scoprirai tu con la ricerca che che a cui io parteciperò ma all'atere di cui magari parleremo dopo proprio per capire l'efficacia eh dei metodi che di cui hai parlato quello che utilizza i pannelli anaglifici che eh dovrebbero a sentire eh alcune persone servire a migliorare alcuni aspetti e il metodo coordinabolico col senso bus quindi sarai tu che farai eh il capo ricerca e insieme altri due ragazzi di Milano ricercatori eh Carolina Gatti e eh Sergio Cominelli esatto quindi voi trarrete i risultati della ricerca che stiamo mettendo giù e quindi poi i numeri parleranno la statistica di solito è veritiera ecco sì diciamo che mi accontento io per adesso mi accontento che tantissimi maestri della federazione non solo di tennis ma anche di calcio di scherma eh di pugilato di taekwondo di karate io sono anche pensa sono anche eh responsabile sono docente per la federazione karate che né di scherma né di karate né di pugilato non so niente però questo mio metodo è molto apprezzato in questi ambienti e quindi mi chiamano a fare da relatore e poi diciamo che stavi parlando quindi proprio della della nostra ricerca che andremo a sviluppare nei prossimi mesi quindi eh diciamo sono le l'evoluzione del metodo coordinabolico e io sono un appassionato di ricerca infatti negli ultimi cinque anni ho fatto alcune ricerche proprio sul dispendio energetico nei tennisti ho fatto pubblicato una ricerca sul giornale del dell'international tennis federation e e proprio in quel tempo durante il quale stavo progettando di fare un'altra ricerca sempre con il dispendio energetico nelle cinque tipologie di giocatore su differenti superfici e mi è andata all'occhio il tuo il tuo software il tuo il tuo prodotto il tuo strumento il senso boots e allora mi sono chiesto perché non facciamo magari una ricerca insieme al professor buzzelli sui tempi di reazione nei tennisti e alcune volte mi chiedo e mi chiedono spesso se ci sia un un modello di prestazione sia nei tennisti sia tra i preparatori fisici tra i coach che utilizzano spesso tantissimi modelli di prestazione e durante una nostra chiacchierata ultimamente tu hai coniato un bellissimo termine che è la richiesta prestativa mi mi è piaciuto tantissimo perché mi pare di spiegare un po' il nostro modo di vedere questo questo famoso modello di prestazione io penso io individuo è unico e quindi ogni individuo deve deve avere il suo vestito le sue misure proprio come perciò la preparazione fisica secondo il mio pensiero deve essere individualizzata proprio come il sarto cuce il vestito di un cliente esatto ma è così in realtà se tu ci fai caso un po' tutte le cose che io penso escono un po' dagli schemi comuni quando si parla di modello di prestazione e si vuole ridurre il tutto a uguale per tutti e non va bene perché cioè non è detto che io debba allenarmi in una certa maniera perché me lo richiede il modello di prestazione io mi devo allenare in una certa maniera perché la mia richiesta prestativa mi chiede di fare quello se io sono un giocatore che tu sai meglio di me quei ruoli contrattaccante da fondo campo a tutto campo e vari altri cioè ognuno avrà una richiesta prestativa e si allenerà in base a quello che si richiede per poter fare il punto per chiudere la partita quindi ho cognato questo termine come tanti altri proprio per voler far capire che il modello prestativo è un qualcosa che va bene per tutti la richiesta prestativa è qualcosa di assolutamente personale concordiamo veramente salvatore e mi riferisco sopra volevo dire un'altra cosa scusami un attimo volevo dire un'altra cosa proprio prima stavi parlando dei tempi volevi capire i tempi di reazione un'altra cosa che cognai all'inizio di questo mio percorso e l'ho scritto anche nel mio primo libro che ho qui ve lo faccio vedere questo del 2013 2012 2013 i tempi di reazione non sono altro che i figli dell'attenzione quindi non si allenano i tempi di reazione si allena l'attenzione perché migliorando l'attenzione miglioreranno di conseguenza i tempi di reazione poi bisogna sempre fare un distinguo tempi di reazione semplici o tempi di reazione complessa il tennista di solito reagisce a tempi di reazione complessa nel senso che non sa esattamente che cosa deve scegliere se non dopo che l'avversario ha colpito una palla non sa che direzione deve prendere fare uno scatto in avanti perché la palla gli richiede quello ma fino a che non l'azione dell'avversario non è messa in atto lui non sa quello che deve fare ancora non al massimo può tentare di anticipare ma se sbaglio l'anticipazione perde il punto e quindi capisci che è abbastanza complesso quindi attraverso questo sistema di lavoro ti metti in una situazione a secco che ricrea le situazioni di campo cioè eleva i livelli di attenzione stimola i processi di reazione e l'insieme di queste cose può migliorare anche quello che è un meccanismo di anticipazione insomma un modello un po complesso che che funziona sembra che funzioni concordo concordo a pieno e tu parli di queste cose da tantissimi anni infatti il senso buzz non nasce un anno fa o due anni fa nasce 1988 nasce nel 1988 e c'è anche una documentazione cinematografica di questo strumento come dicevi io mi sono occupato sempre di nei miei studi di ingegneria di sviluppare software quindi feci un software allora in tempi non sospetti e ci sono c'è la documentazione su una videocassetta intitolata la preparazione atletica del tennista in cui alleno la velocità del tennista non in maniera stereotipata come farebbe uno che allena lo scatto sui 10 metri o sui 20 metri o sui 30 ma l'alleno emettendo un segnale quindi questo software faceva emettere un segnale al computer che erano allora delle frecce che indicavano la direzione verso cui doveva partire e toccare un un sensore per poi ritornare vedere un nuovo stimolo che mi dava un'altra direzione quindi allenavo la velocità e la resistenza alla velocità attraverso questo sistema a stimoli era il 1988 poi le frecce che non hanno nulla di cognitivo perché ti dicono già la soluzione vai a destra alla sinistra sono state sostituite attraverso il senso boots il primo strumento che avevo fatto che poteva emettere 12 segnali diversi 4 acustici 4 colorati e 4 simbolici è stata sostituita con l'applicazione che adesso provo a farvi vedere in qualche maniera che invece di segnali ne emette una infinità perché adesso vediamo un po' se riesco a ecco questo aspetta aspetta questa è un'altra altra cosa che non c'entra scusa un attimo che non vedo mi devo mettere gli occhiali magari diciamo a vedere il video di un allenamento di una tennista che utilizza nel frattempo io preparo qualcosa qua abbiamo visto questo video la mia atleta stefania rubini che si allenava con uno dei tantissimi esercizi che sono scritti sia sui libri sia abbiamo fatto tantissimi video ultimamente è uscito anche un nuovo libro che è intitolato il tennis sul metodo coordinabolico che ho scritto insieme a un mio allievo un bravissimo preparatore che ha lavorato per un po' con me ha fatto una bellissima ricerca dove abbiamo dimostrato tante cose che l'attenzione inizialmente nel primo libro avevo parlato del costo energetico dell'attenzione cioè nel senso che si metteva in evidenza che l'attenzione alla fine ha un costo di tipo energetico perché quando un esercizio è inficiato da un aspetto attentivo chi lo esegue quell'esercizio riesce a produrre meno rispetto a quando non è attentivo quindi vuol dire che l'attenzione assorbe energia in qualche maniera assorbe energia di tipo metabolico poi starà agli scienziati delle neuroscienze dimostrare cose che magari non sono così però è incontrovertibile proprio il il fatto che l'attenzione porta via dell'energia adesso non si capisce bene se è di tipo metabolico o di altro genere ma sta di fatto che la prestazione quando c'è l'attenzione cala e in quest'altro libro abbiamo fatto proprio uno studio dove abbiamo messo in relazione un gruppo di ragazzi che si allenava in maniera tradizionale senza contemplare lavori attentivi e un gruppo che lavorava con esclusivamente col metodo coordinabolico e hanno lavorato tre mesi e mezzo quattro e abbiamo visto che quelli che lavoravano in maniera non attentiva non non hanno mai pagato quel gap che c'è tra un lavoro attentivo e uno non attentivo c'è un test come dicevi te il sigma test che mette in evidenza queste cose mentre invece il gruppo che la faceva lavori attentivi non solo è riuscito a raggerare questo gap addirittura è andato oltre la prestazione di cui uno era capace e quindi ha aperto uno scenario ancora più importante a cui daremo risposta col tempo perché bisogna studiarle queste cose quindi ritornando anche al sigma test io continuo a vedere sui campi da tennis gente che fa lo yo yo il test di legge che sono assolutamente testi validissimi li ho utilizzati anch'io fino a quando non ho creato il sigma test ma cosa valuto se poi in questo test che io propongo a un giocatore di tennis manca l'aspetto fondamentale che è l'attenzione cosa vado a valutare quindi adesso grazie anche a te che mi hai dato l'idea perché non ti ho conosciuto da molto ma leggendo il tuo articolo ho contattato quelli del la redazione del itf coaching giornale internazionale di tennis e ad agosto pubblicheranno un articolo sul sigma test per cui lo conoscerà il mondo questo strumento questo metodo questo test di valutazione e in italia lo conosciamo in pochi tutti quelli che adoperano il senso boost stavi facendo vedere prima il senso boost lo ricordiamo che può essere ovviamente scaricato sia su sistemi ios che su sistemi android e ovviamente oltre al tuo libro che se la regia fa vedere sto lanciando un altro tipo di vedete sono dei simboli di valute ogni simbolo cioè come funziona il meccanismo lo strumento emette dei segnali ogni segnale corrisponde a un determinato movimento che viene concordato con l'allenatore e quindi l'atleta sa che quando esce quel segnale deve fare una certa cosa quando esce un altro deve fare un altro adesso vi faccio vedere per esempio un con i numeri per dire ecco io do il via e lo lo strumento emette dei numeri si vedono quindi sono due numeri pari due numeri dispari e l'atleta questi numeri deve decodificare addirittura io posso dire mentre sta lavorando di fare delle operazioni matematiche con questi numeri poi cosa posso fare per aumentare la l'attenzione dell'atleta provate a guardare adesso ecco mi devo spostare guardate che frequenza cioè la frequenza con cui è emesso il segnale è molto alta e quindi l'atleta deve stare molto attento e reagire rapidamente è così che si allena l'aspetto attentivo a funzionare al massimo e poi c'è un transfert in quelle che sono le richieste motorie nel campo e quindi se il mio cervello è abituato a lavorare rapidamente quando si troverà nel campo da tennis reagirà anche rapidamente a tutte le situazioni a cui verrà sottoposto volevo farti un'altra domanda salvatore da in questo caso da da preparatore fisico spesso quando insegno in campo faccio un transfert molto semplice cioè mi ricollego all'atletica con con i lanci quindi alcune volte io penso che ci sono del molte similitudini tra l'atletica e il tennis mi riferisco ai lanci dove per esempio il lancio del giavellotto potrebbe essere paragonato a quello del servizio oppure il lancio del disco che potrebbe essere paragonato a quello del diritto e io penso che questi due attrezzi potrebbero essere veramente propedeutici nello sviluppo di un'ottima tecnica cosa ne pensi io penso che io e tantissimo tu lo sai benissimo tantissimo che parlo di queste cose tant'è che ho fatto anche una lezione ultimamente che intitolata dai lanci ai colpi cosa intendo dire che il lancio è chiaramente tipico della dell'atletica leggera però bisogna conoscerlo cioè è che tutti si mettono lì e fanno il lancio del giavellotto bisogna conoscere come funziona come si impugna come va lanciato anche perché sono pericolose queste e quindi è bene che chi le fa fare sappia esattamente che cosa far fare sicuramente c'è un come dire un transfert tra una tecnica e l'altra ma più che la tecnica vera del lancio certo se uno sa fare sa far fare il lancio del disco ben venga ma se non lo sa fare può utilizzare tutta la l'aspetto didattico che riguarda il lancio del disco lancio del giavellotto con le palle zavorrate di vario peso a seconda dell'età e quindi il tipo di di azione che devo fare ma io sono assolutamente d'accordo su questo tant'è che l'aspetto multilaterale inteso come capacità di sapersi orientare in tutti gli sport e poi arrivare allo sport principale che è quello che ogni atleta poi svolge nel caso del tennis sarà il tennis e farà il tennis però se ha avuto un corollario di tante attività sportive adesso magari il nuoto non c'entra niente col tennis però se ha lanciato se ha saltato se ha corso se ha giocato un po' a calcetto e se ha fatto questi tipi di attività sicuramente gli ritornano utili quindi i lanci diventano assolutamente utili in un contesto multilaterale l'importante è che chi gli fa fare le cose le conosca e non vada un tanto a chilo perché va di moda e siccome ultimamente va la gente segue solo le mode io sono sempre contrario quindi in me vedranno sempre un fustigatore appena vedo qualcosa che non quadra volevo farti un'altra domanda visto che è da circa un anno che alleno un atleta disabile un atleta della FISDIR che è la federazione italiana per i disabili interlettivo relazionali Beatrice Pedrotti che se ci sta guardando la saluto ciao Beatrice e visto che in Calabria abbiamo anche un grandissimo campione che è allenato dal maestro Crucitti che si chiama Catalano e volevo chiederti il Senso Boots può aiutare anche in atleti che hanno una certa disabilità? Allora ho un o non ho non ce l'ho io però uno dei miei seguaci è un maestro di scherma e allena il campione europeo under 20 under 18 di Fioretto lui è su carrozzina si chiama Michele Massa è fortissimo e loro lavorano con il Senso Boots tant'è che questo ragazzo mi ha mandato come dire dei dei ringraziamenti ma volevo farti vedere una una cosa spero di riuscire a trovarla rapidamente perché capisco i tempi però te la voglio far vedere se la trovo perché qui c'è aspetta che devo quando cerchi le cose non le trovi mai eh capita però ti voglio far vedere visto che mi parlavi di questa ragazza che è abile a fare le cose adesso ne faccio vedere una che quando ha fatto questo lavoro è impazzita dal vediamo se riusciamo a farla vedere bene avete capito chi è? questo è Bebevio? Eh certo Bebevio era impazzita quando ha cominciato a lavorare con questa adesso io la devo contattare perché volevo farle avere anche lo strumento nuovo per dire certo che possono adoperare assolutamente sì io ho questa esperienza ho visto una grande atleta che non si allena con il senso bucce ci tengo a dirlo però ha mostrato un grandissimo interesse e grandissimo entusiasmo quando l'ha fatto mentre invece ho un e questo è Bebevio e mentre invece ho quest'altro atleta seguito da un mio amico maestro di scherma anche preparatore atletico eh che si chiama Michele Massa che si allena con anzi dovrei avere guarda perché ultimamente chiedo a tutti di mandarmi una foto che dovrei averla questa foto dove c'è appunto questo Michele Massa però qui non la trovo e vabbè insomma da qualche parte sarà vedremo eccolo qua guarda vediamo se si vede ecco questa è la scuola scherma di fermo eh l'allenatore eh Carlo mille volte e lì seduto sulla carrozzina c'è Michele Massa e appunto viene mostrata l'applicazione senso buzzi che hanno sul telefonino e loro ci lavorano costantemente quindi vuol dire che funziona funzionano vengono utilizzate quelle che non funzionano eh non devono essere andare bene per istituzione perché istituzionalizzate vanno buttate via se non funzionano no ti ringrazio di questo perché sono intenzionato ad utilizzarlo già con Beatrice nei prossimi allenamenti che che terremo eh ti posso dire scusami ti blocco un attimo ti posso dire anche un'altra cosa che io so per certo che il responsabile nazionale del tennis in carrozzina che adesso mi sfugge il nome di Sulmona Giancarlo Bonasia sì ha chiesto a tutti i fiduciari regionali di munirsi dell'applicazione senso buzzi per lavorare perché lui ha lavorato prima con il senso buzzi strumento poi con il polifemo che era un un senso buzzi in forma ridotta e adesso sta lavorando con l'applicazione e lui è il responsabile nazionale per il tennis in carrozzina forse non so se voi lo conoscete comunque eh so per certo che lui ha chiesto ai suoi fiduciari di organizzarsi con l'applicazione quindi sicuramente ci lavoreranno ecco quindi grazie grazie Salvatore come ti dicevo sicuramente nei prossimi allenamenti proveremo ad utilizzare anche il senso buzzi con Beatrice che potrebbe stimolarla veramente a migliorare i tempi di reazione che sono essenziali anche per lei quando gioco una partita di tennis ehm oggi quando ci siamo sentiti per telefono è partita una tua telefonata e hai detto Fabrizio ti devo abbandonare ho una persona importante che mi sta chiamando eh era l'allenatore era l'allenatore di no ma è stata è stata eh no è andata così tu dopo hai una persona importante perché io ti ho detto oh ma mi stanno chiamando Serbia per me sono ehm sai quelle telefonate spam che ti vogliono appioppare qualche una chiamata due chiamate tre chiamate Serbia e tu stesso mi hai detto ma rispondi a quel punto ho risposto e poi non ti ho più richiamato non ti ho più calcolato perché sono stato mezz'ora a telefono con Marco Panichi che stava organizzando l'allenamento di Diokovic mi chiedeva come poter sistemare delle cose con l'applicazione e quindi l'ho aiutato in diretta a fare queste cose qui e quindi chiaramente non ti ho richiamato ma poi ti ho giustificato perché ti avevo lasciato in soffeso no ma ero impegnato anch'io con gli scrutini a scuola quindi molto impegnativi anche per me perché a scuola tra scrutini collegi dei docenti siamo veramente sommersi soprattutto in questo periodo di ho già dato ho già dato 43 anni di duro lavoro tra quelle quattro mura della palestra per me lo dico qua così chi ci ascolta magari saprà anche questa cosa qua per me è stata una grande cosa io ho studiato tanto ho fatto tante cose però alla fine ho fatto anche il coach e il preparatore atletico di atleti importanti però poi alla fine mi sono sempre come dire rifugiato dentro quelle quattro mura della scuola perché grazie alla scuola io ho potuto realizzare tutte le mie ricerche tutti i miei il senso buzio è nato a scuola il senso buzio è nato a scuola perché io insegnavo in un liceo classico sai il liceo classico quando arrivi all'ultimo anno quindi fanno il terzo liceo di educazione fisica non vogliono sapere più niente perché per loro è importante studiare greco latino quelle cose lì quindi a lezione sparivano tutti e io hai voglia a chiedere no ragazzi dovete stare qua allora ho detto bene quest'anno facciamo una ricerca anche perché interessava soprattutto a me però li ho coinvolti con questa ricerca del dei tempi sui tempi di reazione quindi abbiamo testato tutta la scuola più volte e i ragazzi hanno conosciuto sto senso buzio con cui io facevo anche le lezioni tant'è che una volta il preside arrivò io chiusi la palestra i ragazzi erano dentro avevo messo il senso buzio sul canestro della della pallacanestro a tre metri d'altezza quindi lo vedevano tutti i ragazzi sparsi nella palestra e lavoravano io sono uscito un attimo chiuso la palestra e incrocio il preside e mi fa professore cosa fa qua e sto facendo lezione come sta facendo lezione ma i ragazzi ce li ha infatti sì e dove sono e sono in palestra ma non si sente niente e che stanno lavorando senza buzio cioè senza me lui ha aperto la porta e ha visto tutti i ragazzi che tutti facevano la stessa medesima cosa nello stesso istante perché erano comandati dal dallo strumento che era lì che metteva segnali e loro si alle cioè facevano lezioni in quella maniera fantastico questo periodo di lockdown stando a casa è stato una cosa nuova anche per noi come docenti stimolare i ragazzi a distanza a fare attività motoria ed è stata sicuramente una nuova scoperta io l'ho presa ovviamente in maniera molto positiva perché ho investito tanto nella formazione quindi seguendo tanti webinar seguendo tanti corsi di formazione sia per la scuola che per federazioni come la fis dir e ci ho visto tantissimi atleti anche tennisti soprattutto allenarsi in questo periodo di lockdown proprio con il senso boots ce n'è ma guarda è vero ti dirò ti dirò che non solo i tennisti ma anche fabio tomei che è il responsabile nazionale del karate ha fatto delle sessioni italiane di allenamento col senso boots lo stesso ragazzo di cui parlavo prima carlo mille volte ha fatto una sessione internazionale su col senso boots cioè lui dava le direttive con il senso boots e gli atleti in tutte le parti dove anche fuori italia si allenavano in quella maniera questo è anche uno strumento che tipo io seguo una ragazza come tu sai seguo una ragazza molto forte o perlomeno per adesso abbastanza buona ecco diciamo così delle buone prospettive posso anche dire il nome che non è un segreto più ed è Federica Sacco sono quattro anni che la seguo ma io sto a Bologna lei sta a Napoli e quindi lei si allena anche grazie al senso boots che viene programmato secondo i programmi che io do da fare e poi è un metodo di lavoro a distanza molto efficace e quindi capisco che in tanti hanno lavorato in questa maniera sì è stata è stata una scoperta continua però la cosa importante è quello che ripeto sempre è il lavoro di team no quindi sia a scuola che quando sei su un campo da tennis il lavoro di team ripaga sempre quindi c'è il maestro c'è il preparatore fisico c'è il mental coach l'osteopata il fisioterapista e l'educatore alimentare alcune volte ci sono ci troviamo di fronte a dei maestri di tennis che vogliono svolgere un po' tutte le mansioni del preparatore fisico del mental coach dello psicologo insomma di tutte le figure io questo lo trovo non lo trovo molto molto carino nei confronti degli altri perché bisogna riconoscere quali sono la linea le linee di confine quindi dove finisce il lavoro del maestro e dove inizia quello del preparatore fisico stessa cosa dove finisce il lavoro del preparatore fisico e inizia quello da mental coach e penso proprio questo che il lavoro il lavoro di team ripaga sempre alla fine spero che spero che attraverso questa applicazione ci sia ci sia un cambio nella visione della preparazione fisica per i tennisti perché magari tanti allenatori hanno utilizzato sempre gli stessi strumenti sempre gli stessi test di valutazione io ho visto anche dei maestri che hanno utilizzato preparatori fisici che ultimamente utilizzano ancora il test di cooper per fare test sui tennisti che come dicevi tu prima sono dei test assolutamente validi però se abbiamo un test come magari il sigma test che ci permette di visionare valutare i tennisti ancora meglio alcuni anni fa durante il simposio a roma conobi miguel grespo che portò il test del litte run test per il tennis che era molto simile a tantissimi test già visti in che cosa consisteva alla fine consisteva nell'eseguire una corsa laterale dal corridoio al corridoio opposto quindi percorrere otto metri un po' come lo yo-yo test però alla fine questo test di valutazione di grespo rimase un po' accantonato e tutti gli allenatori preferivano utilizzare sempre quelli conosciuti io ho notato che nel ciclo test c'è una una fattibilità tangibile per i preparatori fisici perché va a sviluppare proprio gli spostamenti che deve seguire un tennista durante un'azione di gioco assolutamente ma questi spostamenti sono comandati esattamente come avviene in partita dall'avversario che ti dice indirizzando la palla in una certa direzione tu ti dovrai spostare in quella direzione quindi è coinvolto l'aspetto attentivo e anche quello reattivo e quindi la corsa tecnica su cinque metri poi il sigma test adesso non so provo a trovare l'immagine provo a trovare l'immagine così chi ci ascolta sa dove si svolge questo test ecco si svolge non so se si vede io adesso inquadro ecco il sigma test si svolge in quei cinque metri e mezzo di raggio che sono nella parte finale del campo da tennis quindi l'atleta si sposta facendo tre quattro passi che sono esattamente quelli che fa il tennista li ripete va torna va torna fino a che ce la fa e seguire il sigma test che è un test in valutazione che ci dà tanti parametri alla fine che è l'ultimo ma quello è quello che secondo me serve meno il massimo consumo di ossigeno a livello teorico perché poi sinceramente non interessa come ne interessano neanche le frequenze cardiache nel tennis perché è uno sport talmente asincrono che non ha senso che uno stia a guardare le frequenze cardiache perché o saranno basali o a un picchi di frequenza perché ci sono stati cambi rapidi di spostamenti ma che uno guardi le frequenze secondo me non ha senso mentre invece fare questo tipo di test mi dà delle indicazioni mi dice quanti metri ho percorso in maniera tecnica quanti errori ho fatto e quindi quanti errori di sequenza ho fatto quanti momenti in cui l'attenzione è andata via perché non seguivo bene i segnali e quindi ho sbagliato la direzione e alla fine il test restituisce due parametri fondamentali la velocità massima a cui io sono stato capace di sportarmi in questi cinque metri e mezzo e quanti metri ho fatto quanti metri oppure quanti cicli ho eseguito questi due parametri ci danno la possibilità come ne ho scritto sul nuovo libro di poter organizzare tutti i tipi di lavoro di tipo metabolico a partire dalla capacità anaerobica a lattacida fino alla potenza aerobica giocando su che cosa su delle distanze e su dei tempi ma queste distanze questi tempi me li dice il sigma test quindi il sistema mio credo mio parere molto naturalmente interessato ma da ricercatore e da conoscitore della scienza se noi non abbiamo una valutazione iniziale cosa alleniamo quindi noi abbiamo una valutazione iniziale ci sarà una valutazione finale nel mezzo c'è un metodo di lavoro che sfrutta due cose uno strumento è la metodologia dell'allenamento come è stata creata qua la nuova scienza della preparazione fisica con il rivoluzionario metodo coordinabolico io continuo a vedere io nel 94 feci una videocassetta sulla preparazione atletica del tennis dove c'era appunto il primo senso boots che raccontavo prima poi ho scritto il libro senso boots ho scritto tante cose e quindi la preparazione atletica del tennis oramai è stata smiscerata in lungo e in largo quello che mancava era questa questo piccolo tassello ma importantissimo che è quello di poter allenare le qualità motore perché dentro al campo tu hai giocato io non sono stato giocatore ma bene o male la racchetta l'ho l'ho utilizzato ho fatto anche l'esame da allenatore istruttore nel 1977 però poi ho preferito fare facevo il maestro di tennis in sardegna d'estate che mi divertivo però ho fatto sempre il preparatore atletico cioè quello che voglio dire quando stai nel campo da tennis tu devi correre come un disperato perché altrimenti staresti fermo perché la comunità è sempre la cosa migliore stai fermo ma di là c'è uno che ti vuole mettere in difficoltà e quindi tu devi risolvere dei problemi proprio problem solving come ti ho sentito dire più di una volta no quindi tu devi correre spostarti dove arriva la palla arrivare magari prima che arrivi la palla per arrivarci in equilibrio io vedo delle cose inenarrabili delle robe di moda di questi allenamenti in disequilibrio sul sul bosso sì va bene per la caviglia per la mobilità della caviglia ma c'è tante cose io non le condivido però io sono io e gli altri fanno quello che vogliono ecco io tante cose non mi metterei a perdere tempo e quindi come dicevo nel campo devi correre arrivare prima della palla e tirare di là una smazzolata per mettere in difficoltà quell'altro è inutile girare attorno a queste cose quindi l'attenzione è l'aspetto fondamentale che mi permette di arrivare prima poi c'è la forza esplosiva che mi permette che con due tre passi arrivo esattamente dove devo essere poi naturalmente devo saper giocare a tennis e avere una strategia ben chiara e dopodiché guarda che fondamentalmente io che ho fatto salto con l'asta e Decathlon il tennis paradossalmente è difficilissimo però nella sua essenza è molto banale dritto dritto è il dritto non è un salto con l'asta o un 110 ostacoli tanto per dire però devi saperlo giocare nel momento in cui lo devi giocare in una certa maniera con una certa angolatura sono cose che sono abbastanza semplici da capire queste però ecco dal punto di vista tecnico non è difficile ma dal punto di vista del gioco e di una difficoltà non a caso è chiamato lo sforzo del diavolo perché è molto mentale e allora se non l'alleniamo questa mente questa attenzione ma di che cosa stiamo a parlare di quanti chilometri faccio col test di guber no io la penso un po' come te in effetti negli ultimi anni stiamo vedendo su internet o sui social network tantissimi video di maestri di preparatori fisici di coach che inventano tantissimi esercizi inventano tantissimi strumenti io alla fine la penso un po' come te è giusto che un maestro un preparatore fisico faccia le cose giuste fatte bene come si deve è inutile inventare magari degli esercizi che non si conosce magari lo sviluppo non si conosce ma che cosa serve e magari inventa qualcosa di sbagliato che può ovviamente andare a danneggiare la nuova e chi avrà occasione di visitare il mio sito si chiama salvatore buzzelli punto it c'è una una zona dei video dimostrativi io in questi video dimostrativi ho messo quattro film quattro filmati importanti secondo me uno sul riscaldamento perché già il riscaldamento per alcuni potrebbe essere addirittura un allenamento mentre invece il riscaldamento ha un suo perché poi c'è un un filmato su l'allenamento dell'accelerazione e della velocità che nel tennis più che velocità si deve parlare di accelerazione e decelerazione chiaramente quindi c'è tutta una serie di esercizi poi ci sono andature con gli ostacoli perché l'ostacolo che utilizzato come lo utilizzo io e facendo quegli ostacoli cioè costruendo quegli ostacoli con nella maniera in cui costruisco che prevede invece della della barretta di legno sopra un elastico che se ci inciampi non ti fai male e non succede niente ti insegna tante cose la mobilità articolare dinamica l'utilizzo dei piedi quindi ti crea un po questa reattività nei piedi perché alla base di tutto c'è il piede che se non funziona bene tu hai voglia a scivolare sul campo se non parti per arrivare sulla palla non arriverai mai quindi poi c'è tutta una serie di esercitazioni di policoncorrenza cioè tutti i tipi di lanci con la palla zavorrata a questo ho aggiunto due cose nuove che sono due strumenti che ho ideato io che in tanti stanno utilizzando e hanno capito il meccanismo io ne vedo tantissimi gli esercizi ma un tennista non deve essere forte come un lanciatore o come un sollevatore di peso deve essere forte come un tennista quindi non ha bisogno di mettersi un carico sulle spalle che poi già il tennis in questo senso aiuta a rovinare la schiena ma se gli metto anche un carico per allenare la forza abbiamo risolto il problema e questo qui smetterà di giocare a tennis prima quindi io ho ideato un sistema con una catena sospesa che si chiama bus chain che a voglia va a vedere e troverà tante cosine come ho anche ideato un attrezzo che si chiama pr bus perché la gente continua a lavorare con le braccia in maniera simmetrica e simultanea quando invece la fisiologia nervosa ci dice che il nostro corpo funziona cioè quali sono gli sforzi dove tu adoperi gli stessi arti nello stesso momento il nuoto il delfino e la rana per dire oppure la voga con nel canottaggio con tutte e due i remi ma normalmente ma neanche nella palla a volo nel salto si adoperano i piedi in simultanea c'è sempre un'azione di un arto e di solito all'altro arto fa una cosa opposta a tennis con un arto gioco l'altro arto fa un'altra cosa sta sciolto condividi questo quindi ho ideato quest'altro strumento che si più complessi che rispettano alcuni riflessi crociati del sistema nervoso quindi è importante per questo sono quattro cinque tipi di esercitazione e poi naturalmente c'è il senso bus il senso bus è quello strumento che ti permette di avere tanta creatività perché ti puoi inventare tutti gli esercizi che puoi però il fatto di avere il ritmo cioè puoi impostare il tempo quanto tempo deve durare l'esercizio quanto deve essere il tempo tra un segnale e l'altro quindi la rapidità con cui devi fare e questi tempi non sono altro che aspetti del metodo scientifico quindi il metodo scientifico è fondamentale nell'allenamento è anche importante un po' di creatività quindi un allenatore creativo inventa l'esercizio ma chi te lo rende ufficialmente valido è scientifico il metodo scientifico e quindi il senso bus ti permette di fare questo cioè insomma sono tante cosine messe insieme che fanno rendono l'allenamento molto proficuo e ripetibile cioè se io devo incrementare la quantità sai no la quantità l'intensità se devo fare un qualcosa così tanto senza avere un cronometro un ritmo o un carico da di cui conosco il valore come faccio a incrementare devo rifarmi a dei numeri ecco il senso bus ha dei numeri funziona con dei numeri cioè i tempi temi per tempo adesso ho fatto proprio ieri è uscita l'aggiornamento dell'applicazione addirittura anche il segnale non so se l'hai vista già se l'hai scaricata il segnale io lo posso addirittura rendere quasi invisibile quindi devo stare attentissimo già c'è qualcuno che ha messo commenti estremamente positivi che ha provato ha sperimentato questa nuova applicazione che è uscita ieri praticamente questo questo aggiornamento l'ha trovato veramente molto molto utile quindi io vado fiero di questo mio strumento peccato che chi mi doveva dare ascolto non mi ha dato ascolto mi hanno dato ascolto altri che non non c'entrano niente con me però va bene così il tempo è sempre galantuomo condivido con te chiedo a francesco se ci sono domande che arrivano intervengo in questa fase diciamo oggi mi sono occupato di regia come avete ben notato tanto stavo stavo notando sul sito ricchissimo di contributi e cercavo di trovare qualcosa che guardassero le mie domande intanto se allenabile questo sistema anche per quei giocatori che non hanno una tecnica particolarmente diciamo progettiva proprio recettiva quindi e voglio dire mi domandavo se questo metodo è anche per quella fascia di di base del tennis cioè gli amatoriali fra virgolette se possono migliorare dal punto di vista atletico magari se non tecnico dai tre anni ai 90 anni questo tipo di allenamento funziona ai tre anni perché ti insegna delle cose ai 90 anni perché ritarda i processi degenerativi dall'aspetto cognitivo degli anziani quindi è uno se inizia ecco già la mia età se io tutti i giorni mi mettessi a fare un po di senso but non mi farebbe male e quindi ritarda questi processi degenerativi proprio sull'aspetto cognitivo e tutta la fascia centrale amatori giocatori professionisti abbiamo abbiamo detto prima lo utilizzano tutti dai campioni del mondo ai numeri uno al mondo a quelli che sono giocatori che stanno per iniziare la loro carriera va benissimo io per esempio ho trovato tantissimi genitori proprio in questo periodo di lockdown che mi hanno contattato si sono scaricati l'applicazione hanno comprato il libro e in poco tempo hanno imparato guardando anche i video chiedendomi naturalmente dei suggerimenti io poi ho fatto dei tutorial proprio per aiutare ho fatto delle dirette in cui spiegavo questo periodo per me è stato proficuo tantissimo tantissimi genitori hanno allenato i loro figli e continueranno a farlo perché hanno capito che possono almeno per quanto riguarda questo aspetto poterlo fare tanti preparatori non lo conoscono perché purtroppo non non gli è stato consentito di sapere che esisteva da chi doveva divulgare queste cose qua io ho divulgato poi io sono poca cosa rispetto a chi può fare molto di più intanto scorrono le immagini insomma del sito come diceva bene lei è molto fornito di filmati e contributi da cui vedo anche l'applicazione ultima di cui parlava quindi un sito sempre molto aggiornato con gli studi posso dirti che quella lì dove ci sono se clicchi sopra dove c'è la signorina con la maglietta verde lì sulla destra ecco ci sono tutti i vari video quindi sono tutti i video prova a farne partire uno così tanto per per far capire magari sull'attenzione ma o riscaldamento quale grazie riscaldamento il primo il primo sull'attenzione lì sulla colonna di sinistra nel frattempo nel frattempo che c'è il caricamento ci saranno dei tempi volevo intanto il tempo di caricamento diciamo del video volevo fare un'ulteriore domanda che mi è venuta sul momento riguarda il padel ad esempio tutti intanto è partito il video quindi la facciamo dopo magari vediamo 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 il video così ecco se ecco ma forse in che video è questo hai fatto partire un video che non è impazzito è impazzito è impazzito è il bello della diretta ecco ecco questo è un'altra cosa professore questo è il bello della diretta va sul sito se li può vedere tutti ce ne sono tantissimi e può vederli volevo farvi notare che quella signorina con la maglietta verde e la kuznetsova che sta lavorando con il senso bus sempre allieva del grande marco panichi che mi ha mandato quella foto naturalmente di spalle per motivi di immagine di di aspetti commerciali ecco legati all' immagine però io lo posso dire che la kuznetsova oramai la kuznetsova credo che non giochi neanche più però era lei per dire certo atleta di alto livello è vinto il Roland Garros numero due al mondo ecco intanto ho recuperato il video vediamo se riusciamo lì è uno dei primi video che feci con lo strumento di allora vediamo un po che cosa salta fuori ecco questo è un ragazzo di napoli che era nella mia accademia dovrebbe andare rapidamente il video che abbiamo visto prima della rubini è quello che ci è capito subito ecco lui si sposta se fai vedere anche l'esercizio numero due vedi lui va a toccare con i piedi e con le mani dei target che corrispondono ai segnali che vengono emessi dalla macchina quindi lui deve stare attento ai segnali e eseguire quei segnali che possono essere anche dei gesti atletici oppure toccare dei target spostarsi fare delle corse insomma ce ne sono tanti ricordiamo ovviamente che questa è la parte più tra virgolette analogica del vostro sistema che ovviamente con la tecnologia digitale adesso con le applicazioni per i device telefonini e quant'altro abbiamo migliorato anche la compressione dell'attrezzo stesso ecco quindi esatto tornando al sistema ecco mi scuso per i problemi tecnici ma dovendo gestire tante cose magari è partito da nostro video è un altro video vediamo di che si tratta no 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 è tutt'altra cosa quindi le volevo fare una domanda per quanto riguarda il ecco è impazzito e per quanto riguarda il padel abbiamo notizie di persone magari dato che sta diventando una moda frequente uno sport che ormai praticato a livello federale di questo sport notizie che magari viene adottato anche per gli allenamenti essendo poi un gioco solo una cosa io ti posso dire solo una cosa io ho allenato per tanti anni un ragazzo che è stato 250 al mondo di tennis ma per 17 anni è stato il numero uno d'italia di padel si chiama enrico burzi adesso è in spagna ed è uno dei migliori giocatori tra i migliori giocatori al mondo di padel per lo meno lo è stato sicuramente il migliore italiano il fatto di avere un gioco che comunque di squadra si gioca in doppio quindi il padel è impensabile giocare in singolare questo non può complicare di più la gestione diciamo di questa cosa cioè a livello sensoriale anche lavori in doppio in due metti dei segnali che sono di competenza di uno dei due e altri segnali che sono di competenza dell'altro quindi in base ai segnali si muove uno e l'altro è in attesa che succeda qualcosa poi addirittura con un segnale convenzionale che può essere un suono ci si inverte e quindi si cambia posizione quindi devi subito cercare di resettare i segnali su cui devi stare attento se prima stavi attento per dire rosso blu e la lettera a e di là invece c'è la lettera b il verde e il giallo quando cambi di posizione i segnali di prima non valgono più valgono quelli nuovi quindi devi creare sempre degli aspetti attentivi nuovi e pronto a resettarti e a mettere in pratica quello che devi fare correttamente quindi questo professore può essere applicato anche al doppio diciamo nel tennis tradizionale che è una specialità che i ragazzini giocano sempre di meno e quindi potrebbe essere incentivante per se vuoi aggiungere qualcosa a Fabrizio che è fatto da moderatore che vedo particolarmente faccio vedere questa immagine non so se si vede sì sì un attimo la facciamo vedere se in regia eccola qui ecco qui c'è zona a zona b sono due giocatori uno sulla base a l'altro sulla base b che rispondono a tre segnali diversi e al segnale convenzionale si invertono cambiano zona di lavoro e quindi cambiano anche segnali sono tutti esercizi c'è un eserciziario immenso oramai con i lavori da poter fare quindi pura creatività diciamo ecco questa è un strumento che ti permette di esprimerti con creatività e fantasia ma ti tiene legato al metodo scientifico l'unico strumento quindi per legarmi a una precedente puntata che abbiamo fatto con Fabrizio il cosiddetto mancino che Fabrizio se ci vuole ripetere le caratteristiche secondo uno studio fatto americano sulle differenze creative anche diciamo psicomotorie diciamo rispetto a un destroma quindi se lo vuole ci vuole accennare anche Fabrizio questa differenza per coloro che non hanno sentito precedentemente intervento in un altro webinar sì io ho spiegato un po' cosa avviene nel cervello di un destrimane di un mancino spiegando che ci sono delle connessioni ovviamente interemisferiche interemisferiche che differenziano il destro dal mancino quindi diciamo che tutti quanti sanno che lo stimolo che proviene dall'emisfero sinistro va a privilegiare quelli che eseguono il movimento con la mano destra qui nell'immagine si può vedere benissimo l'attività neuronale di un uomo e di una donna io l'altra volta lanciavo proprio questo questo esercizio vediamo chi indovina qual è il cervello dell'uomo e qual è il cervello della donna ovviamente il cervello dell'uomo è quello con l'immagine e con le connessioni neuronali di colore blu perché ci sono queste connessioni che avvengono in tremisferiche mentre invece il cervello della donna è quello che vedete in basso di colore arancione con le connessioni neuronali arancioni che avvengono in tremisferiche cosa significa che le donne sono più portate magari ad essere multitasking quindi a fare più cose nello stesso momento mentre l'attività degli uomini si incentra su un compito ma fatto molto molto bene questo ovviamente è uno studio dell'università della pennsylvania che di cui ho parlato l'altro giorno nel webinar con francesco e ovviamente adesso non vedo l'ora di ripartire con questa nuova ricerca perché penso sia un trampolino di lancio per le capacità di reazione motoria ho sentito altri maestri altri coach altri ricercatori e non vedono l'ora di rivedere questi risultati dei tempi di reazione anche un mio caro amico danilo pizzorno che è l'esperto di videoanalisi ci siamo sentiti la settimana scorsa mi ha detto proprio fabrizio fammi sapere quali sono i risultati dei tempi di reazione e che avete con con questo studio che state che porterete ovviamente perché sono molto interessato a portarlo anche a giocatori professionisti quindi non vedo l'ora di sviluppare questa nuova ricerca perché sono veramente curioso di conoscere i risultati di questi tempi di reazione ricordo che il tennis mondiale maschile e femminile sta andando sempre più veloce la media e le caratteristiche antropometriche degli atleti stanno cambiando stanno evolvendo quindi fra qualche anno fra quattro cinque anni ci saranno dei giocatori molto più alti adesso la media dei giocatori è almeno per quanto riguarda la fascia maschile intorno al metro e novantadue di altezza e si presuppone che fra quattro cinque anni queste misure siano più più alte quindi si presuppone arrivino a 1,95 o 1,96 quindi si andrà sempre di più verso un power tennis verso un tennis di potenza di velocità e ovviamente eh questo porterà al tennis ad essere sempre più veloce ovviamente i preparatori fisici e i maestri dovranno adattarsi a questo a questo cambio di velocità e questo eh tennis che si evolve quindi non vedo l'ora di di riniziare questa nuova ricerca professore io eh vorrei concludere questo incontro magari con un messaggio positivo come è stato finora l'incontro magari vuole dare dei consigli a chi approccia verso questo modello suo e i modelli prestativi che abbiamo parlato e discusso con bene con 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 lei e con il professore Fabrizio Senatore preparatore insomma atletico che ben dice che lui sta facendo un grande lavoro e lui è un appassionato come me prima di tennis e poi un grande ricercatore quindi eh cosa si sente di consigliare a coloro che ancora non si sono svegliati e diciamo avvicinate a questo tipo di visione diciamo che lei ci ha proposto? Chiaramente chiaramente eh qui eh purtroppo mi tocca recitare una parte che non mi piace molto però eh siccome poi i mezzi ci sono chiaramente prima di approcciarsi a al metodo bisogna capire di che cosa stiamo parlando e quindi per questo motivo è stato scritto questo libro che consiglio vivamente eh di leggere perché è un libro di quattrocento pagine che parla veramente di come si sviluppa tutto il metodo a partire dai primi concetti sull'attenzione a finire agli esercizi quindi una volta letto il libro c'è qualcuno che ha scritto il commento dice letto il libro il giorno dopo sei già in grado di allenare però chiaramente per poter allenare con questo metodo hai bisogno anche dello strumento allora eh l'ideale è stato creare un'applicazione del costo eh di qualche decina di euro quindi con un investimento inferiore ai cento euro abbiamo tutte le direttive per poter lavorare con eh allegria divertendosi in maniera efficace sicura e divertente ecco mettiamo la regia ho mandato appunto la schermata che è dove c'è la presentazione il libro chi va sul mio sito trova tutte le indicazioni non sono io che vendo queste cose quindi eh però per far conoscere è chiaro che bisogna produrre dei dei eh sussidi eh audiovisivi o eh dei libri e quindi io l'ho fatto in quel libro ci sono tante esperienze torno a dire questo libro l'ho scritto insieme a un mio allievo un bravissimo preparatore del circolo tennis Nettuno che si chiama Marco Mazzilli eh molto giovane però un ragazzo che mi ha dimostrato grande intelligenza e grande voglia di fare perché lui faceva l'università da un'altra parte in Italia ha capito che se voleva migliorare eh è dovuto venire a Bologna si è messo a lavorare con me e sta avendo anche lui un buon successo a ventott'anni ha già scritto un libro che farà la storia della metodologia dell'allenamento perché parliamoci chiaro questo metodo è l'unica innovazione nelle metodologie di allenamento che si propongono qualunque esse siano è il è il primo seme di questo genere di nuova modalità di allenarsi che coinvolge completamente psiche e corpo è un tutt'uno non è uno staccato dall'altro e ovviamente coinvolge anche i preparatori come Fabrizio che alla fine essendo un tecnico anche nazionale può godere di questa dubbio diciamo funzione e quindi può trasferire queste competenze che le sta elargendo con questo studio che oltretutto sembrerebbe proprio che avesse già avuto più di una vita perché ci dimentichiamo che la mole che abbiamo visto sul sito a parte i miei errori diciamo nella regia c'è tanto da vedere ci vorrebbero forse un mese due o un anno forse per per capire no per capire un po' tutti i segreti e i contributi video che lei ha realizzato con la mia vita di solito si lascia in eredità agli altri io ho messo tutto sul mio sito chi ha voglia non ci sono segreti io oramai ti ho detto alleno una ragazza che sta a Napoli alleno la rubini ogni tanto tra l'altro approfitto per salutare anche la sacco che è stata vincitrice di una di un nel se non sbaglio nel 2016 a reggio calabria al circolo polimeni io di cui faccio parte anche io e al tennis europe junior master 2016 è stata vincitrice under 16 all'epoca e io con obbi anche il suo allenatore adesso non ricordo bene il nome forse forse correntino adesso insieme a marco valletta è un team familiare ma efficace è un team che dà i suoi risultati perché la ragazza obiettivamente ha fatto degli ottimi risultati sia da under 14 sia da under 16 ha vinto al di là del del torneo europeo il master europeo under 14 o under 16 non ricordo ha vinto anche il torneo di salso maggiore da under 16 ma era il torneo per under 18 quindi lei l'ha vinto a 16 anni e lo vinse insieme a Musetti l'anno precedente l'aveva vinto anche lui sembra che aveva vinto anche lui questa questa tappa diciamo di salso maggiore master e comunque mi fa piacere appunto si sta si stia allenando anche con questo metodo vedo che appunto come diceva lei è un metodo apprezzato proprio da da la maggior parte degli allenatori da chi ovviamente vuole fare il salto di qualità va bene prego prego no 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 va benissimo quello che hai detto volevo dire che se ha qualcosa da aggiungere fabrizio a chiusura di questo incontro avrebbe meriterebbe forse ancora più di credo che siamo andati forse oltre un'ora quindi oggi il mio compito era quello di moderatore perché per me è stato un piacere aver conosciuto professor salvatore buzelli che poi tra l'altro io conobbi molti anni fa in un corso di preparatore fisico di secondo grado a castel di sangro che è la sua cittanatia e poi però in questo periodo di lockdown ho avuto modo di conoscerlo meglio anche attraverso le sue dirette facebook che faceva ogni sera e poi ci siamo sentiti per telefono ci siamo ci siamo trovati sul sul metodo da utilizzare sul su come vengono allenati gli atleti quindi sono molto contento di averlo conosciuto e ripeto torno a ripetere mi piacerebbe iniziare subito questa ricerca e cercare di di portare avanti un un tema che è proprio quello della capacità di reazione nei tennisti che è assolutamente importante e io da preparatore fisico e da tecnico il consiglio che do soprattutto a livello tecnico tattico mentale e fisico è quello di sviluppare sempre di più un concetto multilaterale quindi di non soffermarci sempre solo sull'aspetto tecnico sull'aspetto tattico ma di essere sempre più bravi a sviluppare anche gli altri due concetti che sono fondamentali quindi quello mentale e quello fisico e poi come ti dicevo l'altra volta bisogna essere molto bravi soprattutto a capire lo stato d'animo dell'atleta quindi ad immedesimarsi nei panni dell'atleta cercare di capire quali sono i suoi bisogni e quindi cercare di soddisfarli e che il tutto lo abbiamo riassunto in un'unica parola quindi essere dei maestri e preparatori fisici empatici e come dicevamo prima risolvere i problemi nel miglior modo possibile essere sempre positivi essere fiduciosi avere un atteggiamento sempre di riguardo verso gli atleti e questi sono i principi su cui baso i miei allenamenti non solo con con i tennisti ma anche a scuola con i miei alunni quindi ringrazio ancora il professor Salvatore per tutte queste conoscenze che sta mettendo in atto per tutti quanti non solo per gli appassionati di tennis ma per tutti gli sportivi in generale. Io direi a questo punto che i saluti sono i ringraziamenti sono doverosi in primis al professore Salvatore Buzzelli vi ringrazio per aver partecipato e accettato questo incontro che si è dilungato oltre un'ora però piacevolmente abbiamo avuto questa possibilità ecco di conoscere questo metodo ormai diventato famoso ovviamente per quelli che vogliono approfondire queste tematiche invitiamo presso il sito appunto del professore che ci derà lui l'indirizzo se lo vuole dire lei professore perché mi sfuggi in questo momento www.salvatorebuzzelli.it questo è il mio sito e poi ho anche una pagina facebook col mio profilo Salvatore Buzzelli dove pubblico oramai un po' tutte le cose che faccio a livello sportivo e non solo metto anche cose di vita quotidiana però sono cose minime invitiamo ovviamente coloro che hanno già in possesso di aggiornare l'applicazione in questo questa giornata abbiamo detto come diceva appunto precedentemente aggiornato per i sistemi per tutti i per adesso solo android credo la settimana prossima anche apple però ecco sono delle modifiche importanti ma la sostanza già c'è tutta quindi anche se si aspetta qualche giorno va bene lo stesso giro anche ringraziamenti a fabrizio senatore che si è prestato a darmi diciamo una mano come moderatore ovviamente le sue competenze li conoscono tutti e lo ringrazio caldamente perché da quando è nata questa collaborazione anche perché noi ci siamo affacciati proprio quasi forzatamente per il lockdown a intraprendere questo tipo di contatti stiamo girando un po' tutte le realtà nostre del territoriale ho scoperto una voglia nonostante questi sistemi siano gratuiti però bisogna saperle gestire quindi se si usano per una giusta causa diventano possibilità divulgativa e formativa anche per chi ascolta e la cosa bella è che chi parla al microfono si apre proprio perché non ha invidio non ha nessun è una chiacchierata tra amici ecco la vedo così io stesso ho dovuto fare fronte a un cambiamento mio di mentalità magari all'inizio non avevo quella spigliatezza anche delle volte tra il fatto che devo gestire un po' la legia e certe volte come dice mi incarto come si suol dire e quindi mi scuso a coloro che magari qualche volta vedono qualche gaffa però questo fa parte della diretta a me non piace fare quelle cose costruite perfettine vuol dire che dietro non c'è una spontaneità una passione per quello che si fa ma si fa il trucco della sposa come si vuol dire quindi per me è questo io rinnovo il ringraziamento anche a nome dello staff e mando i saluti anche di tutti i tecnici che conoscono in particolare fabrizio che ho poco fa fuori onda ho ricevuto particolare riconoscimento e spero un giorno il mio sogno sarebbe quello di ospitarvi proprio in un centro tecnico periferico qui sul reggio calabria magari per farvi vedere anche qualche ragazzo promettente quindi potrebbe essere un motivo di certo è che dopo questo incontro io proporrò anche da istruttore e da persone che conosce adesso questo sistema e sto leggendo anche nel suo sito che è particolarmente curato anche i dettagli di approfondire quindi divulgare anche i tecnici di livello superiore quindi ne parlavo appunto con salvatori con fabrizio che scusa di questa iniziativa e poi questa sarà un inizio per altre iniziative volendo potremmo anche fare altri seminari perché questo è l'inizio di una lunga serie che spero di poter mantenere nel tempo dove fabrizio sarà il mio prescelto moderatore per per tutto quello che rappresenta a livello personale a livello tecnico conoscitivo un abbraccio ringraziamento a tutti e buon buon tennis visto che stiamo per partire anche con l'agonismo speriamo che il decreto ci dia questa possibilità a livello internazionale so per quello che mi diceva anche una persona che sta su Roma che è ancora un po più difficile sulla tp che parte abbiamo fatto un collegamento con francesco vilardo che un ragazzo che in questi giorni sta facendo anche un si sta diciamo avviando verso una figura di tra virgolette sindacalista del circuito quindi è entrato in un panel che l'etf sta dedicando questa possibilità di rappresentare tutti i giocatori secondo i continenti i cinque continenti quindi e lui nella rosa dei sette che dovranno fare parte di questa di questa votazione che decreterà insomma il responsabile secondo le aree geografiche europee e mondiali di nuovo grazie di tutto e alla prossima noi della fm credit siamo veramente lusingati che lei ci abbia scelto per vedere realizzati i suoi progetti che a quanto capito sono tanti di importanti i nostri prestiti si possono ottenere attraverso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione ed è rivolta a tutti i dipendenti pubblici statali e pensionati fino a 87 anni in convenzione colline tra i nostri prodotti anche l'anticipo tfs riservato ai dipendenti statali adesso in pensione i quali grazie a noi di fm credit agenzia sigla con sede anche a brescia non dovranno aspettare anni per avere i loro soldi ma potranno riceverli in un'unica soluzione a tassi fissi e vantaggiosi sono certo che lei si sia già fatto un quadro delle nostre offerte bene quindi immagino che lei avrà fatto i suoi calcoli e avrà compreso la convenienza di averci scelto signor leonardo giusto certo che i nostri prestiti sono dei capolavori sì e se lo dice lui no no lui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti